buongiorno oggi vi farò vedere come si utilizza il cumino allora questo il cumino io l'ho preso su amazon e viene fornito anche con la colla poi eventualmente per finire il cordoncino vi faccio vedere quello che praticamente io ho già realizzato questo e questo è uno dei tanti modi con cui si può utilizzare il cumino e è una busta e eventualmente anche la i terminali per fare una collana però praticamente con questo cordino poi lavorato si possono realizzare bracciali si possono realizzare tantissime cose il cumino lo potete anche creare quello potete anche creare da sole praticamente con il cartone tenendo presente questi quattro punti quindi dividere dividete il cartone con questi quattro punti e poi suddividendo le parti in in sette parti ogni diciamo ogni quarto c'ha sette divisioni poi ogni divisione ovviamente c'ha questa tacca dove si infile al filo io ovviamente per brevità di tutorial ve lo faccio vedere già composto poi io ho preso questi fili di cotone li ho presi di tre colori di quattro colori diversi quindi ho preso un arancione un rosso un verde e un blu vediamo dove comincia questo verde li mettiamo tutti cioè naturalmente io sto usando un cotone sottile voi potete usare qualsiasi tipo di corde di cordino non c'è nessuna nessun limite l'importante che osserviate le regole della del lavoro questa è la più semplice della dell'evolazione allora io prendo un bel po di filo poi lo taglio togliamo da mezzo i rotolini e questo filo questo filo queste quattro questo quattro fili colorati li raddoppio quindi li metto qui insieme e vado a farmi un nodo in questo punto cioè qua ok poi a questo punto metto il filo qui dentro e comincio a distribuire i miei fili li potete distribuire secondo il colore come vi pare io li ho presi tutti di color diverso in maniera che si veda bene come si lavora allora cominciamo da questo dal primo che vediamo apparire che questo blu e lo infiliamo qui da questa parte poi c'è l'altro subito dopo che è verde lo infiliamo qui poi andiamo a destra prendiamo altri due fili e li mettiamo una sinistra e una destra del puntino insomma della parte centrale così poi torniamo ruotiamo andiamo in basso facciamo la stessa cosa ne mettiamo uno a destra e uno a sinistra so prenderli e sono molto sottili quindi prenderli non è così immediato però comunque ci riusciamo ecco qua questo lo mettiamo a destra e poi ruotiamo ancora e mettiamo ancora questi due uno a destra e una sinistra ovviamente facendolo con un cordino più spesso si fa anche prima però adesso io avevo questi cordi e queste cordino di cotone utilizzato questo eccoli qua uno adesso una sinistra teniamo il nodo sotto in basso adesso cominciamo a fare il lavoro li tendiamo bene il lavoro è semplicissimo si prende il cordino in basso a sinistra quindi da questa parte e lo si porta in in alto a destra così e così andiamo ad avere tre fili qua adesso prendiamo questo terzo filo a destra e lo portiamo qui in basso adesso in questo modo ruotiamo il nostro disco prendiamo scusate sempre in basso a sinistra quindi sempre il filo in basso a sinistra e lo portiamo in alto a destra poi prendiamo quello a destra e lo portiamo scusate questo qui sembra lato in basso a sinistra non guardate i numeri non guardate se si spostano i fili lasciate semplicemente che va davanti così ruotiamo di nuovo quindi prendiamo di nuovo il filo in basso a sinistra e lo mettiamo in alto a destra poi prendiamo quello in alto a destra e lo impulsiamo in basso a destra ruotiamo di nuovo il filo io sto cercando anche di sbrogliare i fili se no su questi facendo questo lavoro molto corto non c'è bisogno delle bobine se no se si fanno lavori lunghi ci sono anche le bobine riprendiamo questo e lo mettiamo a destra poi prendiamo questo e lo mettiamo sempre a destra andiamo avanti giriamo io naturalmente sbroglio un pochino i fili in fondo prendiamo questo a sinistra e lo mettiamo a destra e lo mettiamo in basso a destra ruotiamo sempre il nostro disco prendiamo quello in basso a sinistra e la mettiamo a destra poi prendiamo quello in alto a destra e lo mettiamo in basso a destra ruotiamo questo lo mettiamo in alto a destra questo lo mettiamo in basso a sinistra ruotiamo questo lo mettiamo in alto a destra questo lo mettiamo in basso a sinistra adesso andate avanti, vado avanti anch'io per un po' per farvi vedere come viene il cordino perché essendo un cordino molto leggero ci vuole un po' perché si vede il cordino quindi vado avanti e poi vi faccio vedere il video dopo il cordino finito